quella sera la luna non riusciva a mostrarsi in tutta la sua splendente luminosità perché un leggero velo formato dall'afa sollevatasi da terra la offuscava facendola apparire più remota di quanto in realtà non fosse l'aria non era immobile appiccicosa come capita spesso nelle calde serate estive ma spirava una brezza molesta che infastidiva non poco chi si trovava in giro per i vicoli del paese era il 14 luglio 1853 quella sera il segretario generale della repubblica di san marino la più alta figura politica che all'epoca vi fosse ai vertici del piccolo stato veniva assassinato nel buio con un colpo d'arma da fuoco alle spalle per la prima volta nella sua lunga storia la repubblica veniva colpita al cuore perché tanta scelleratezza nei confronti delle sue istituzioni perché tanta violenza verso una famiglia san marinese tra le più antiche questo è molto altro e quanto cercheremo di capire nell'episodio di oggi ma non prima di aver mandato la nostra sigla quindi marco luca sigla delirante voce narrante prestata al nobile servizio della divulgazione storica sono giuseppe giardi benvenuti e benvenuti su story in flanella ben ritrovati amici della flanella oggi abbiamo una novità straordinaria in redazione anzi non in redazione ma proprio riguardo la redazione stessa chi ci guarda avrà sicuramente notato la sfavillante novità per chi ci ascolta invece lo rendiamo subito noto finalmente abbiamo uno studio tutto nostro quindi basta registrare nel salotto di casa mia che per carità è viva lo smart working ma quando finivamo la sera grandi pacche sulle spalle di marco luca e poi io mi ritrovavo con le aste dei microfoni sul divano le telecamere nella cucina i cavi nelle cucette dei cani insomma un delirio assoluto ora finalmente abbiamo i flanella studios veri e propri un luogo che trasuda erudizione da ogni angolo con uno stile un po british con questo mattoncino rossiccio scelto dal nostro consulente d'immagine bernucci abbiamo trasferito anche una parte della nostra libreria e insomma ci stiamo creando un pochino il nostro spazio se avete suggerimenti su cosa potremmo migliorare o aggiungere fatecelo senz'altro sapere nei commenti perché noi siamo apertissimi ai consigli e se tra i nostri ascoltatori vi fosse un interior designer si palesi lo o la ingaggeremo per aiutarci nei lavori di allestimento di questi studios straordinari come ci stanno aiutando i nostri amici del centro del riuso che sponsorizzano questo episodio di storia in flanella per chi non conoscesse il centro chi sono costoro e di cosa si occupano alessandro e il suo team fanno un lavoro davvero utile infatti danno una seconda vita all'usato raccolgono i vostri oggetti vi svuotano la cantina la soffitta l'ufficio sistemano il sistemabile e lo rendono disponibile all'acquisto per gli altri insomma è un virtuoso esempio di economia circolare non di meno il riuso ha al suo interno una fantastica sala interamente dedicata alla nostra storia io stesso ho trovato diversi volumi che mi sono stati davvero utili nella creazione di questo podcast quindi io vi consiglio di farci un salto e ringrazio di cuore tutto il gruppo del riuso per il lavoro prezioso che fanno e per essere i primi sponsor del nostro podcast ma i ringraziamenti oggi non sono giunti al termine perché se oggi posso sorseggiare il mio caffè americano in questo capolavoro di artigianato sotto forma di tazza è tutto grazie agli amici di coppe che supportano il progetto di sif coppe scritto con la k mi raccomando è un'azienda storica del titano attiva da oltre 40 anni il loro laboratorio è una cucina di idee e dalla mente creativa del buon kevin fuoriescono dei capolavori come questa tassa e il logo retroilluminato che vedete alle mie spalle e niente siamo prossimi al lancio del merchandising di sif e non potevamo rivolgerci ad altri se non a coppe che ancora ringraziamo davvero di cuore bene ora è finalmente tutto fuoco alle polveri e iniziamo oggi episodio davvero denso mi verrebbe da utilizzare un aggettivo che non uso mai cioè straordinario ma proprio extra ordinem alla latina cioè fuori dall'ordinario perché di assassini di segretario di stato sul titano non ne abbiamo visti effettivamente tantissimi anzi quello di cui vi racconto oggi è probabilmente un unicum vi dico subito che l'introduzione di oggi non è una mia produzione bensì è un omaggio tratto direttamente dal primo libro del professor werter casali il delitto bonelli pubblicato nel 1992 che vi spiega per filo e per segno la vicenda che lui per primo ha studiato e che io oggi vi racconto davvero per sommi capi perché è ricchissima poi come sappiamo werter ci ha preso gusto e ne ha scritti 30 di libri sulla storia sanmarinese di cui l'ultimo che vi invito a leggere perché è gustosissimo si chiama il pane e la fame dei sanmarinesi è stato presentato proprio qualche giorno fa ed è un'opera interessantissima di microstoria che racconta quella parte della storia del popolo che spesso può rimanere sepolta sotto i grandi avvenimenti politici ma che invece è davvero molto interessante e utile per approfondire la nostra storia magari lo inviteremo a parlarne anzi sicuramente lo inviteremo anche per raccontarci i nuovi studi ma anche quelli più datati come appunto il delitto bonelli di cui parliamo oggi però prima di arrivare al delitto che è un pochino il climax cioè il punto più alto del nostro episodio vi devo raccontare almeno un altro avvenimento rilevante di quel periodo di tempo di cui ci occupiamo oggi una decina di anni grosso modo dal 1851 al 1861 ora per amore di chiarezza riprendiamo da dove ci siamo lasciati abbiamo terminato l'episodio scorso con la fuga dal titano di giuseppe garibaldi insieme ad anita e a qualche fedelissimo una fuga che come vi abbiamo raccontato fece infuriare non poco gli austriaci fuori dai confini tanto che gridarono furibondi alla complicità san marinese e una parte degli ormai ex garibaldini dentro i confini si sentì chiaramente tradita dal loro generale quindi il problema era duplice anche se va detto la situazione di tensione riuscì a essere gestita in maniera celere infatti i garibaldini si calmarono consegnarono le loro armi agli austriaci e la tensione si allentò almeno momentaneamente vi ricordo che questi avvenimenti si svolsero nel 1849 il problema è che risolta questa questione ne rimaneva aperta un'altra antichissima che ci ha dato grattacapi praticamente per tutto il corso della nostra storia mi riferisco alla polemica con lo pontificio ma cosa vogliono ancora i papalini in buona sostanza il vaticano continua a sostenere la vulgata secondo la quale san marino è un covo di fuori legge è un rifugio per i nemici dello stato della chiesa e costruisce dunque un costante pericolo per la sua sicurezza la chiesa come avevamo già visto negli scorsi episodi del podcast accusava san marino di non controllare in maniera adeguata chi entrasse nei propri confini fornendo quindi rifugio a individui pericolosi va detto che se queste proteste effettivamente c'erano già state in passato quelle della metà dell'ottocento furono particolarmente accese e violente questo perché la chiesa insieme al gran ducato di toscana si era convinta che all'interno dei confini san marinesi si nascondesse una sanguinaria setta mazziniana ora tenete a mente che erano gli anni delle lotte risorgimentali e mazzini a cui oggi trovate intestate vie e piazze era considerato il nemico numero uno chiaramente questa situazione destava una preoccupazione incredibile nei vertici pontifici le fonti testimoniano senza ombra di dubbio che la tensione era davvero altissima ci fu una fitta corrispondenza tra il vaticano e san marino da una parte le accuse di roma dall'altra san marino che cercava continuamente di abbassare i toni sostenendo che questa sette in realtà non esisteva o meglio non esisteva sul nostro territorio qualcuno diceva san marino stava spargendo maldicenze contro la repubblica ad ogni modo lo stato della chiesa non prestava assolutamente attenzione alle difese san marinesi e questo condusse la situazione a un fatto davvero gravissimo forse uno degli episodi più duri della nostra storia fu uno di quei momenti in cui la nostra autonomia venne messa seriamente sotto scacco forse rispetto ad altre vicende più note come ad esempio l'episodio del borgio l'invasione alberoniana questo episodio è un pochino meno conosciuto anche perché effettivamente è diverso nei modi e adesso vi spiego bene siamo al 23 giugno del 1851 solo due anni dopo la fuga del garibaldi e le tensioni con gli austriaci di cui vi ho detto lo stato pontificio convinto che a san marino ci fossero 400 rifugiati nascosti dai san marinesi decide di fare all in 3.000 soldati austriaci più due compagnie di soldati svizzeri del vaticano e 50 carabinieri pontifici circondano in armi i confini del titano a questo punto si tenne un colloquio tra il reggente nobile guido giangi e il generale pontificio che si chiamava marziani marziani consegnò una missiva che spiegava le ragioni dell'accerchiamento e informava giangi che qualora entro tre giorni non fossero stati espulsi tutti i rifugiati gli ordini erano categorici l'invasione della repubblica di san marino in questo frangente viene scritta una pagina davvero nera della nostra storia perché il consiglio principe e sovrano come si chiamava all'epoca fu costretto a prendere una decisione gravissima permettere l'ingresso dei soldati in armi per verificare di persona la presenza o meglio l'assenza di questi rifugiati denunciati tra i documenti riportati da werter nel suo testo da cui attingo a piene mani c'è una nota redatta proprio dal segretario giambattista bonelli cioè colui che verrà assassinato pochi anni dopo in questa situazione si intravedono proprio i prodromi gli inizi della crescersi delle tensioni che poi sfoceranno nell'assassino del bonelli nella nota che ci è giunta infatti il bonelli portavoce dell'oligarchia san marinese in buona sostanza diede il suo lascia passare permettendo agli austriaci ai soldati pontifici di entrare nel territorio di san marino per verificare con i loro occhi che effettivamente questi 400 rifugiati non esistevano ora noi dobbiamo fermarci un attimo a riflettere perché è vero i soldati entrarono ed è vero che trovarono effettivamente qualche rifugiato ma una quarantina per la precisione 39 non di certi 400 di cui si parlava dall'altra parte però noi dobbiamo analizzare come venne percepito questo fatto un ingresso in armi dalla popolazione umile chiamiamola così cioè i san marinesi non oligarchi immaginatevi infatti di essere un cittadino del borgo e all'improvviso vi piombano in casa dei soldati austriaci noi possiamo immaginare che nonostante le autorità san marinesi avessero chiesto di procedere con cautela i soldati visto il compito critico non siano entrati nelle case proprio con i guanti di velluto il san marinese medio il popolano il borghese non l'oligarca probabilmente non comprese la gravità della situazione non comprese meglio non comprese che la decisione del consiglio era in realtà una decisione obbligata san marino non aveva altre possibilità se non quella di accettare il diktat violentissimo di roma questo a noi è evidente la repubblica non aveva al tempo neppure un esercito regolare figuriamoci se ci fosse stata la possibilità di rispondere in armi a 3000 soldati austriaci sarebbe stata una carnificina l'oligarchia in questo caso rappresentata dal bonelli si comportò in maniera giusta e intelligente per cercare di evitare il peggio optando per quello che al tempo era il male minore per la salvaguardia di san marino e dei suoi cittadini ma questo di certo non fu il ragionamento che fece la maggior parte dei san marinesi infuriati contro gli oligarchi e da un fronte di difficoltà in merito alla politica estera si passa immediatamente a un fronte di aperto conflitto per quanto concerne la politica interna perché la san marino di quegli anni stava attraversando un periodo di profonda crisi economica e di grande miseria sia questo aggiungiamo il malessere sociale e come avevamo già accennato nei precedenti episodi del podcast i nuovi ideali politici che infiammavano la classe borghese san marinese il quadro è completo questi ideali figli della rivoluzione francese si basavano sul concetto di uguaglianza e democrazia ideali che i san marinesi liberali vedevano oramai come distanti dalla loro realtà poiché lo stato era governato in gran parte da un'oligarchia di poche famiglie quindi il concetto stesso di res pubblica di repubblica dunque era fortemente messo in crisi secondo queste visioni a questi ideali di uguaglianza si aggiunsero le idee mazziniane che circolavano anche sul titano e trovavano terreno fertile la repubblica di san marino appunto si autodefiniva repubblica ma in realtà di repubblica aveva ben poco perché il popolo non partecipava al governo né alla gestione politica del paese come potete immaginare questo fermento portò a un odio viscerale dei liberali contro l'oligarchia con delle conseguenze davvero nefaste adesso vi racconto una storia per una strana ironia del destino cinque dei più odiati oligarchi della repubblica di san marino avevano in comune l'iniziale del cognome la lettera b questo portò una mano anonima l'autore del testo è tuttora ignoto a scrivere un sonetto fortemente accusatorio chiamato la satira dei 5b braschi bonelli belluzzi borghesi e belzoppi erano i 5b cioè i 5 oligarchi più importanti e più odiati perché erano ritenuti responsabili dell'invasione delle truppe austriache tra questi in particolare bartolomeo borghesi e domenico maria belzoppi erano quelli contro cui si scagliava con maggiore violenza l'ira del popolo infatti borghesi e belzoppi venivano considerati dei traditori perché oltre al lasciapassare concesso agli austriaci avevano tradito gli ideali che avevano abbracciato in gioventù in particolare quelli legati alla carboneria di belzoppi abbiamo già parlato nello scorso episodio del podcast perché fu reggente durante lo scampo garibaldino e anche perché noi di sif lo abbiamo un pochino nel cuore dal momento che abbiamo curato proprio quest'anno per il centocinquantesimo della sua morte l'audioguida della mostra a lui dedicata ma ora voglio dirvi due cose sull'altro cioè su bartolomeo borghesi perché d'antichista non posso esimermi bartolomeo borghesi classe 1781 nacque a due passi da qui a savignano sul rubicone ed è stato uno dei numismatici ed epigrafisti più importanti del diciannovesimo secolo e uno dei maggiori studiosi di antichità del suo tempo pur essendo originario della romagna borghesi trascorse gran parte della sua vita a san marino dove si trasferì come rifugiato politico era infatti uno di quelli che trovò scampo nella repubblica a seguito dei moti risorgimentali falliti le sue competenze di studioso vertevano come vi dicevo principalmente sulla numismatica e quindi sullo studio delle monete e l'epigrafia latina quindi lo studio delle iscrizioni incise su materiali duri come ad esempio la pietra ed era bravo ma tanto bravo tanto che i suoi studi su romantica sono considerati ancora oggi come fondamentali per la comprensione di quel periodo storico e non di meno le sue vicende si intrecciarono con quelle di un altro gigante dell'antichistica e cioè niente po po di meno che è theodore momsen premio nobel per la letteratura nel 1902 probabilmente il più grande antichista di tutto l'ottocento che venne pensate in visita a san marino proprio per poter lavorare con il borghesi e che pare dal borghesi abbia poi ricevuto grande motivazione per lavorare a quella che ancora oggi è un po la bibbia degli epigrafisti cioè il cil corpus iscrizionum latinarum la raccolta di tutte le iscrizioni latine antiche allora conosciute tra l'altro se la vicenda del borghesi vi interessa vi segnalo un testo ricchissimo uscito da pochissimi mesi che si chiama amicizia ed erudizione il carteggio scientifico tra bartolomeo borghesi e luigi nardi l'autore è alfredo sansone e il testo è della collana del centro san marinese di studi storici della nostra università ma se la carriera di studioso del borghesi quindi fu davvero straordinaria di fama indiscussa la sua personalità politica fu invece controversa soprattutto agli occhi dei liberali san marinesi che lo vedevano come uno degli esponenti più di spicco dell'oligarchia san marinese anzi come vi dicevo si sentivano traditi da lui perché il borghesi era considerato come un volta gabbana uno partito da idee progressiste e poi divenuto un oligarca conservatore a tutti gli effetti quindi nonostante la fama come studioso il borghesi finì inevitabilmente nel mezzo del crogiolo incandescente di conflitti interni che agitavano san marino in quegli anni turbolenti ma a pagare il prezzo dell'odio del popolo il prezzo maggiore dell'odio del popolo non fu lui bensì un altro delle 5b è il 14 luglio del 1853 ore 20 e 30 il segretario generale della repubblica giambattista bonelli è sulla via di ritorno a casa che si trovava alla fine della attuale contrada di borgolotto in città in quello che sembra un giovedì estivo tutto sommato ordinario a un tratto rumore fortissimo squarcia al cielo dall'oscurità proviene un colpo d'arma da fuoco che colpisce il bonelli vicino al cuore il segretario cade a terra accorre il fratello cercano di soccorrerlo in ogni modo ma un paio d'ore dopo giambattista bonelli muore è un assassino politico dalle gravissime conseguenze bonelli come vi dicevo non era l'oligarca più odiato ma era l'uomo politico con più responsabilità colpire lui significava colpire l'oligarchia direttamente al cuore dopo il delitto bonelli il paese entrò in uno stato di fibrillazione assoluta a rendere il tutto più grave l'anno successivo avvennero altri due omicidi di natura politica la prima vittima fu gaetano angeli un giovane avvocato proveniente da un'altra famiglia antica e nobile della repubblica era di idee conservatrici non simpatizzava particolarmente con i riformisti e non era animato dalle vicende risorgimentali angeli tra l'altro aveva portato il procedimento bonelli al tribunale della corte regia di firenze dato che li studiava qualche mese dopo fu la volta di annibale lazzarini un medico san marinese legato sia all'angeli che al bonelli a questo punto voi capite bene che tra gli oligarchi iniziò a diffondersi il terrore e riemersi dall'oscurità l'ombra forse mai del tutto spazzata via di una setta mazziniana assassina che avrebbe avuto il compito di sterminare sistematicamente tutti gli oligarchi più influenti del paese seguiamo da vicino proprio la vicenda di una di queste 5b e cioè domenico maria belzoppi perché è davvero esemplificativa della situazione quattro giorni dopo l'omicidio di angeli belzoppi capisce che l'aria non era delle migliori per usare un eufemismo e che sarebbe davvero stato conveniente darsela a gambe dalle dimissioni dal consiglio rinuncia a tutte le sue cariche lascia il titano e si rifugia nel suo podere averucchio neanche troppo lontano effettivamente ma sufficientemente per starsene tranquillo da lì scriverà alcuni documenti interessantissimi in cui manifesta tutta la sua paura e in cui esamina in maniera molto lucida la situazione complicata san marinese senza però fare mai più ritorno sul titano ed effettivamente la situazione san marinese era complicata sul serio con un'economia in crisi un fermento sociale ai massimi termini e di nuovo un acutizzarsi della paura in campo internazionale come potete ben immaginare i fatti di cui vi ho parlato l'assassino del bonelli ma anche quello di angeli e lazzarini e in generale il clima di tumulto che si era creato all'interno della repubblica non fecero altro che aumentare i timori dello stato della chiesa e del gran ducato di toscana entrambi erano sempre più convinti che san marino fosse un vero e proprio covo di briganti e personalità potenzialmente terroristiche e pericolose già da qualche anno però il titano che questo va detto sempre estremamente capace in ambito diplomatico e ben consapevole della tensione nei rapporti internazionali aveva fatto la cosa più intelligente da fare e cioè cercare protezione presso una figura influente ma davvero influente il nipote di colui che era stato un grande amico estimatore della nostra repubblica mi riferisco ovviamente a luigi carlo napoleone bonaparte meglio conosciuto come napoleone terzo imperatore di francia negli anni 50 dell'ottocento e nipote del grande napoleone bonaparte su bonaparte mi raccomando recuperate in caso a este persa la masterclass con il casali episodio 9 del podcast bene i san marinesi inviarono una missiva all'imperatore francese piena chiaramente di complimenti e belle parole nella speranza di ricevere protezione e amicizia da lui e va detto che l'iniziativa ebbe un successo assoluto napoleone terzo infatti rispose con una lettera altrettanto carica di stima verso la repubblica assicurando l'amicizia e la protezione che già suo zio napoleone bonaparte aveva garantito in passato come segno della sua benevolenza donò anche una cassa di libri che diciamo se lo insomma male non fa un po come un omaggio personale questa vicenda è particolarmente importante nel campo delle relazioni internazionali e diplomatiche san marinesi perché i rapporti con la corte napoleonica furono poi talmente stretti e positivi che nel maggio del 54 1854 ovviamente san marino istituì il suo primo consolato ufficiale proprio presso napoleone terzo e il primo console san marinese fu giovanni paltrinieri qui vi lasciamo in bibliografia un approfondimento per chi volesse leggere qualcosa a riguardo la conseguenza diretta e importantissima di questa amicizia con napoleone terzo fu che il gran ducato di toscana e il vaticano non ebbero più il coraggio di mischiarsi nelle vicende san marinesi senza prima aver allertato la corte francese la francia infatti si era ormai assunta il ruolo di protettrice di san marino in campo internazionale quindi dopo gli omicidi di cui vi abbiamo detto il vaticano e il gran ducato di toscana non intervennero direttamente ma allertarono la francia dicendo guardate che là dentro sono tutti matti c'è una setta pericolosissima che sta agendo bisogna fare qualcosa per fermarla a questo punto interviene napoleone gestisce la patata bollente invia un suo uomo per controllare cosa stesse effettivamente succedendo nella repubblica di san marino mandò il barone bode che arrivò a san marino fece una serie di indagini e alla fine stilò una relazione nella sua relazione bode concluse che nonostante ci fossero stati effettivamente degli omicidi gravissimi non c'erano prove concrete che potessero collegare questi omicidi a una qualche ipotetica setta di assassini è probabile che i giovani che uccisero bonelli fossero spinti dalle stesse idee risorgimentali che avevano portato l'odio verso gli oligarchi questi liberali questi progressisti volevano in buona sostanza un ritorno a una repubblica che fosse davvero tale una democrazia che nell'ottocento era ormai andata perduta ma non c'è effettivamente nessuna prova concreta per dire che fossero organizzati in una vera e propria setta quello che è certo invece è che questa situazione di forte insofferenza politica unita poi alla gravissima crisi economica che affliggeva la repubblica portò a quelli che forse furono i dieci anni più torbolenti a livello di frattura civile nel nostro ottocento anche se almeno in campo internazionale la situazione dopo l'intervento del barone bode e quindi della francia di napoleone terzo si stabilizzò tuttavia la calma era destinata a durare pochissimo gli avvenimenti di cui vi ho parlato riguardano infatti gli anni 1853 se fate un pochino di conti su cosa successe in italia da lì a poco capite bene che san marino venne totalmente travolta da un altro fenomeno epocale dell'ottocento l'unità d'italia ora infatti se ripensate alla storia che vi abbiamo raccontato nei primi dieci episodi di storia di san marino vi renderete conto che la piccola repubblica prima come comune poi appunto come repubblica vera e propria ha sempre dovuto interfacciarsi con un'entità statale sopra le altre cioè lo stato della chiesa questo perché san marino è sempre stata fondamentalmente una sua enclave non solo da un punto di vista territoriale ma anche perché lo stato della chiesa ha sempre considerato il titano un po come la sua proprietà alla quale lasciava una sorta di gestione autonoma del territorio fino a quando però non insorgevano problemi troppo evidenti e come dimostrato dalla vicenda dell'invasione dei 3.000 soldati austriaci in quel caso lo stato della chiesa interveniva senza troppi scrupoli bene con la nascita di un'italia unita tutto questo cambia radicalmente l'unificazione e il consolidamento del regno d'italia sotto lo scettro di vittorio emanuele secondo imponevano a san marino una nuova sfida il famoso adagio noti a noi ignoti agli altri che era stata una massima per lo stato san marinese per secoli dovette necessariamente essere rivisto perché perché con la nascita del regno d'italia san marino si trovava a dover affrontare una nuova dinamica internazionale con attori diversi e uno scacchiere geopolitico completamente nuovo rispetto a quello che aveva conosciuto per la quasi totalità della sua storia inoltre il titano si trovava anche a fare i conti con una serie di nuovi interrogativi la repubblica infatti non aveva una conoscenza approfondita della corte dei savoia né sapeva cosa i savoia pensassero effettivamente di questa piccola enclave ora circondata dal regno d'italia di conseguenza si trovava nella necessità di chiarire questi dubbi e ridefinire la propria posizione all'interno del mutato quadro geopolitico in quanto stato indipendente ma certamente questo è un argomento di massimo interesse che necessita un'analisi approfondita dettagliata e ve lo anticipo probabilmente anche un po lunghetta quindi direi che dopo un'invasione armata tre assassini e un'amicizia stretta con niente meno che l'imperatore di francia per l'unità d'italia vista dal titano ci riaggiorniamo nel prossimo episodio di questo podcast così ricarico le pile anche io e ricaricate anche voi come sempre noi vi ringraziamo davvero di cuore per il vostro ascolto e per il vostro supporto immancabile io vi invito a rimanere sintonizzatissimi perché abbiamo anche un altro paio di novità incredibili in arrivo vi anticipo che apriremo luca marco come le vogliamo chiamare altre rubriche diciamo così ma chiaramente non prima o almeno non senza aver terminato l'epica narrazione delle straordinarie gesta di questo piccolo popolo san marinese dunque vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ricordiamo che il modo più genuino per supportare questo podcast è commentare lasciare un mi piace condividere i nostri episodi con amici parenti conoscenti o con chiunque vi chieda ma come mai san marino è uno stato autonomo ecco mandateli su storia in flanella dove troveranno tutte le loro risposte ancora davvero grazie e fino alla prossima saluti grazie a tutti